In Serie B ci stanno portando gli arbitri, ci stanno portando i giornalisti che godono delle nostre disgrazie, ci stanno portando gli arbitri, giornalisti sportivi, gli juventini, i romanisti, i leaziali, gli interisti, i milanisti, quelli dell'Udinese, un po' tutta Italia. Ci sta portando verso l'inferno della Serie B, ci stanno mettendo anche la mano giocatori presidente, quindi tutti stanno contribuendo, arriveremo in Serie B. Eravamo conosciuti come i migliori giocatori, avevamo i migliori giocatori. De Laurentiis, caro nostro, hai portato Cavani, Lavezzi, Amsic, Iguain, tra parentesi, persona brutta, infame, traditore. Insomma, hai portato a Napoli gente importante. E adesso ci stai portando in Serie B con tutta Italia. Adesso tutti stanno godendo delle nostre disgrazie. Tutti sono contenti. Però io no. Io faccio un appello, faccio. Se andiamo in Serie B, lo giuro, faccio finire il mondo. Perché non è corretto che il Napoli, fino a... Non lo so, quando c'era Sarri, fino a due o tre anni fa, c'aveva il gioco migliore d'Italia. E stava vincendo per un pelo lo scudetto a quattro punti. Quattro. Quattro. E adesso si ritrova là sotto, a lottare per non retrocedere. Qui dobbiamo parlare dei problemi, che sono proprio problemi storici, che sono problemi importanti. Dobbiamo risolvere questi problemi. Perché altrimenti io, ovunque, ovunque andrai, Napoli, ti bacerò sempre la maglia, ovunque te andrai. In Serie B, in Serie C o in Serie D. Forza Napoli, ovunque te andrai.